Non è certamente il momento migliore della stagione per la Vigortrani che domenica scorsa ad Altamura contro lo Sporting ha conosciuto l'amarezza della prima battuta d'arresto nel campionato di eccellenza. Primo tempo equilibrato, ripresa, favorevole ai padroni di casa a segno a metà frazione con radicchio sul rigore dopo il cartellino rosso a Sansonna per questo fallo in area su Aloisio e con lo stesso Aloisio allo scadere. Fine della serie positiva dunque per la formazione bianca-azzurra, l'unica alla vigilia della partita contro i Murgiani a non aver mai perso. Fine dell'imbattibilità in panchina del tecnico Benni Costantino che anche nella precedente breve parentesi a Terlizzi da capo allenatore non aveva conosciuto la parola sconfitta. Nessun dramma in ogni caso, la Vigor è sempre seconda in classifica anche se ora deve condividere la piazza d'onore. Con altre tre squadre, il Nardò che ha pareggiato senza reti nel big match contro la capolista Vieste, la Virtus Francavilla, Corsara ad Ascoli-Satriano ed appunto lo Sporting Altamura. Sarà proprio l'Ascoli-Satriano intanto l'avversario del Trani domenica prossima al Comunale, gara dal coefficiente di difficoltà tutt'altro che elevato per i bianca-azzurri che però affronteranno l'undici Foggiano, informazione largamente rimaneggiata. Non ci sarà per squalifica Manzari che tornerà a disposizione per la successiva trasferta di Casarano. Non ci sarà Albrizio che resterà lontano dai campi di gioco per oltre un mese, idem di Gennaro che rientrerà solo dopo la sosta. Morale della favola, la Vigor, come ha annunciato la società, ha la necessità di intervenire sul mercato ingaggiando una punta di esperienza. Ad un passo invece l'accordo con il centrocampista bitontino Nicola De Santis attualmente in prova con il gruppo. La tredicesima giornata del campionato di eccellenza infine non ha sorriso a Libertas Molfetta, battuta a Novoli, Mola sconfitto a Castellaneta ed estromesso momentaneamente dall'ipotetica griglia playoff e Bitonto superato a Casarano. Vittoria d'oro la seconda in campionato invece per la sud-est. Il gol di Fumarola ha permesso di battere in casa Lella Staranto e di conquistare tre punti pesantissimi in chiave salvezza.